Due rapine in dieci giorni, ma dopo un mese di indagini, l'autore è stato scoperto dai carabinieri di Piazzola sul Brenta che hanno denunciato un sessantenne residente nel Vicentino. Il primo episodio era accaduto lo scorso 13 aprile a San Drigo, vittima un viado. Il malvivente, attorno all'una e mezza di notte, l'aveva avvicinato per una prestazione e dopo averlo fatto salire in macchina, gli aveva puntato un taglierino alla gola. Con l'aiuto di un complice poi, che era rimasto nascosto sui sedili posteriori della vettura, l'avevano rapinato. Magro il bottino, 100 euro. Il secondo colpo, il 24 aprile, ai danni dell'edicola di Piazzola sul Brenta. Il sessantenne, armato di taglierino con il volto travisato da una maschera, aveva terrorizzato il titolare, minacciandolo di morte se non avesse consegnato tutto il denaro custodito in cassa. Tanto rumore per appena 50 euro. I militari hanno eseguito la perquisizione nell'abitazione del rapinatore, trovando sia la maschera che il taglierino utilizzati nella circostanza.